In occasione della terza edizione del Confartigianato Day, l'Associazione Ravennata ha organizzato una serie di visite alle aziende artigiane associate operanti nel territorio provinciale. A Ravenna, il sindaco Matteucci, accompagnato da Antonello Piazza di Confartigianato, ha visitato il laboratorio di Marco Gerbella in Via Maggiore 159, una delle eccellenze ravennati nel settore dell'arte e dell'oreficeria. Qual è il segreto, diciamo così, dell'artigiano orafo che ancora riesce a portare avanti un'attività come la vostra? Non ci sono segreti, in realtà è una cosa molto semplice ed è fatta di passione. In due parole direi qualità e bellezza. Quello che noi cerchiamo è qualità e bellezza, che non è soltanto quello che cerchiamo di costruire, ma è anche quello che cerchiamo di vivere, quello che sentiamo. Quindi la ricostruzione di un ambiente in cui si sta bene, perché il lavoro purtroppo oggi occupa una parte molto importante delle nostre giornate, nella vita di tutti. E quindi in totale controtendenza, sicuramente sbagliando con quello che sono i trend del lavoro inteso come è inteso oggi, noi cerchiamo di stare bene tra di noi, cerchiamo di fare cose che ci piace, fare insieme. E questo negli anni che sono passati comunque 23 anni dall'apertura di questo laboratorio qui, ma 35 da quando ho iniziato a fare questo lavoro, ha contribuito a formare un gruppo che è veramente un team, che è veramente una squadra che definire di amici non rende l'idea, è proprio un equipaggio direi. Io sono un marinaio e direi che questo è un equipaggio. Quanti sono i suoi collaboratori, quanti sono le persone che lavorano all'interno di questa attività e non solo? Allora, noi abbiamo una gioielleria in Via Matteotti dove c'è una responsabile che gestisce il nostro showroom e poi ci sono mio fratello che si occupa di tutto quello che è la gestione amministrativa e anche comunque tecnica di tutte quelle che sono le attrezzature e le necessità. Poi c'è Cristina che è il capofabbrica, che noi chiamiamo il capofabbrica. Poi c'è Maria e poi c'è Valentina che è l'amministrazione. Poi abbiamo ovviamente altre collaborazioni che dipendono e che gestiscono l'apparato comunicativo perché da circa due anni il nostro è diventato un piccolo brand che viene distribuito nelle gioiellerie in Italia qualcosa anche all'estero e quindi è una nuova avventura che però richiede di supporti che sono usciti un po' da quella che era la naturale organizzazione di un laboratorio orafo quindi oggi necessitiamo di social, necessitiamo di pubblicità, di comunicazione. Essere un artigiano orafo oggi nel 2015 è più difficile di quando avete iniziato, insomma 30 anni fa? O è più facile? Allora, io sono andato a lavorare in un laboratorio orafo a 14 anni. All'epoca si usava, quindi si usava, si andava nelle botteghe, non si veniva pagati, però si imparava. Oggi è molto più complesso, è molto più complesso perché vent'anni fa all'incirca si è pensato che il futuro sarebbe stato solo computer, sarebbe stato solo grande industria, sarebbe stato un altro. Quindi le istituzioni e i governi hanno buttato via un capitale di esperienza che secondo me andava conservato con più cura. Quindi noi in realtà non siamo aiutati, combattiamo per resistere, per continuare a poter usare i martelli, le presse, le cose, come si faceva un tempo, ma come è inevitabile che si faccia, perché i gioielli purtroppo si fanno da 2500 anni sempre nello stesso modo con gli stressi attrezzi. Quindi non abbiamo vita facile ma venderemo cara la pelle.